Ehi Puoi entrare col cittadino, come mai? E' perchè... E' buono Dove andiamo? Dopo vieni nel Leo, intanto t'aspetto Dai, vediamo se mi batti Ah, fermo, dobbiamo fare la intro, dobbiamo fare la intro E' bella... hai mezzo cuore? No Ok, no, no, niente Bella ragazzi, colcalfi, benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qui con White Eyes Bella E niente, faremo un po' di pipì Dopo vedremo un po' cosa fare Magari, che ne so, faremo qualcosa di divertente Giusto? Giusto? Eeeh... Yeah Si divertisce moltissimo Yeah Oh shit Lo riuscirei appunto a fare Ah, tre buzze, è ancora niente Oddio Eeeh... Eeeh... Oh shit Oh fuck Eeeh... 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 Eeeh, eeeh... 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 Yo, pingo 49 Eeeh... Io pingo 49 Eeeh... C'erano tanto Mmm, non basta Oh! Oh! Uhhuh... Ahahahah... White guerì si mi dicevano Sc,. lì, what the f**k ZBLACKY oh distrutto oddio ma che è qua c'è le chiacchierie cosa? si qua si entrano bene un bel server no come su mine cacchio è questo ti sei buttato male adesso ho visto la pot che è andata tranquilla L no so cosa pixel client faccio anche cagare però otto quidroppi quidroppi white ok white devo rivellarti una cosa usavi realmente le mani no stavo cittando veramente ehi se lo sapevo l'ho registrato volevo trollarti però tu sei difficile da trollare non 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 non